You think you know me? Ma siamo abituati a GTRK, cosa volete che sia? Come ci sono Dario e Paola? Ciao ragazzi! Allora, partiamo dalle cose più scam che esistano, perché sono contrariatissimo. Ma me lo puoi mettere qua dopo che hai messo l'altra volta là una settimana prima? Cioè, io nel video di ieri dicevo, ma non lo metteranno mai con recharge, perché non possono veramente essere così. E invece... Dario mi censurerebbe, perché l'ha già fatto, quindi va bene. Eh, insomma... Perché? Perché? Ma perché non fanno i vecchi farm? Ah, tutte le volte che... Perché Dario mi censurerebbe? Allora, comunque, l'Ikaon è più problematico di Golem Rock, ovvero il Kakane è più problematico di Scaraccone. Perché mentre l'altro andava in un tempio assolutamente irrilevante, lui va nel tank insieme a Sirione, se ancora lo consiglio, considerate, insieme a DC Toro, e in più va diretto in Wheel of Star il giorno stesso in cui viene rilasciato. Un saluto a Rozan! Ciao, Rozan! No, vabbè, è un bel PG, è leggermente fuori meta, ma ancora molto forte, poi avrà l'RC presto. L'RC non è carino. Però, appunto, diciamo quello che non abbiamo potuto dire perché il video di ieri non lo vedrà nessuno. Come ha detto... Dario, ripeti cos'è l'Ikaone. Che l'hai inventata tu. Vabbè, il PG dei record, che il giorno stesso che esce va a finire direttamente Wheel of Star, cioè è il primo PG che fa una cosa. Anzi, qualcuno è andato in paranoia perché voleva sbloccare il Wheel of the Stars, ma bisogna aspettare cinque giorni di ricarica per poterlo ottenere. Quindi è già sbloccabile, solo che non esiste. Esatto, però manda in paranoia chi non aveva visto come si faceva sbloccarlo. Perché cosa hanno aggiunto anche? Come diceva Palla, hanno aggiunto il Wheel of the Stars. Ah sì, il banner è Capricorn Shura. Vabbè. Per caso, quella persona ha anche fatto centinaia di pull per vedere se gli usciva. Oddio, non voglio chiedergli, lo potrebbe però. Comunque, ritornando a Shura, Palla ieri mi ha detto il nuovo skill con il quale funziona. Allora, col seno di poi, sto coso fa dei bei danni, ma essendo il perno di una comp, lo vuole il tancoso che sopravviva e se lo fa tancoso non fa danni per contro. Quindi, è stato più o meno accettato che va lento in fucsia o comunque qualcuno lo porta anche con le mele, white mist. Ci sta. E in quel caso, allora, vi serve l'ultima 5 che, vabbè, è la brilliance leader, diciamo. E poi, a questo punto, buttate una skill a caso tra la 2 e la 3 per sbloccare l'ottavo senso. Perché in realtà il base, sì, dà il sanguinamento, gli dà il turno extra. Non volete che entri per evitare un occhio di tanto, si infaccia più uno o doverlo proteggere. Quindi, il nuovo, diciamo, skillaggio è molto soft, ha 11 tomi. Quindi, per chi lo vuole recuperare, specialmente, se gli mancano poche shard, può avere un senso. Cioè, nel senso, non pesa recuperarlo come altri pg. Cioè, qua ci sta, dai. Ci sta veramente tanto. Quello era il banner. Poi, che cosa hanno aggiunto di pesante? I will of the star, che io andrò a fare diretta. 5 pg, stavolta. Quindi, nel support, se si... Ci sta Kaiza. Sì. Vabbè. Insomma, come al solito, questo gioco ci presenta delle bellissimi bug. Ok, qui abbiamo Kaiza. Attiviamolo. Tra l'altro, avrai tutto maxato, quindi dà un sacco di punti. Beh, più o meno. Beh, un po' dà, sì. È un A, quindi non tantissimi. Tantissimi, ma... Infatti non mi ha sbloccato nulla nemmeno sopra. Control, chi abbiamo? Garuda. Garudino. Tu mi dai qualcosa. Vedi che sei un bravo figlio, no? Come qualcun altro. Poi l'ho schillato, perché alla fine... Ma in realtà anche Kaiza ti dà roba, ma devi ottantarlo e fargli l'altro nodo che non hai fatto, probabilmente. Eh, sì. Non è 80, è 70. Quindi, sì, lo andrò a fare. No! Eh, guarda, in realtà, in realtà, in realtà, ti mancano 26 punti. Vai a vedere... Garuda mi sa che non ha qualche skill, eh. Beh, non ci stava. Garuda non si faceva tutto. Ah, no, qua sotto posso recuperarle da loro. E poi, con quattro, fai 24 punti, quindi non ci basta. Non mi basta. Eh, vabbè, ci ho provato. A meno che non ti manchino più di un nodo a testa. No. Cioè, me ne mancano tutti, non li ho mai toccati, quindi in realtà sì. Nel Cosmico c'è il pallino, ma non ci sono PG. Ah, no, c'è Artemide. Sì, mi ha dato la fine al posto dell'inizio, non so perché. Non ci sono, PG. No, c'è solo quello che dà più roba di tutti, Artemide. Ora, non so se noti, ma il tuo Cosmico sotto nelle skill può salire fino a 76. Auguri. Sì, vabbè, rimarrà qui al 44, all'interim, perché, per chi se lo chieda, di perché non si sale 300 pietrine d'oro, potete ben immaginare che chi se le... Cioè, insomma, ci hanno capiti, no? Eh, la Pierce, peccato, mi faceva comodo. Eh, vabbè, non si può avere tutto alla vita. Nel fisico, invece, hanno messo 10.000. Eh. E qua pure un bel 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Insomma, di roba questo win ne dà, ne dà pure tanto. Allora, vi faccio un conto, perché io ho portato le ski, la parte sopra al massimo attuale. Il massimo attuale è fisico 89, cosmico 90, protection... Aspetta, io al fisico sono al 90. Eh, allora... Aspetta. Ah, no, sì, scusate, stavo leggendo una roba senza pietrine. No, rifaccio, da capo. Allora, fisico il massimo è 93, sono povero, scusatemi. Il cosmico è 95, il protection è 83 finché non esce l'Icaone, dopo dovrebbe fare un paio di livelli. Il control va fino a 92. Ok. E il support fino a 90. Ok, vabbè, devo recuperare i PG, insomma, però sì, ci siamo, dai, ci sta. Ehm, quindi questa era l'altra novità grossa di questa patch, perché il Will, sono sessioni che fanno sempre appunto livellare parecchio di account, in questi casi soprattutto, nel mio caso soprattutto. Poi che hanno messo, hanno messo il nuovo order building. Hanno messo tre schemi nuovi, se era vai giù a chapter, a destra, si vedono tre schemi nuovi. Eccole qui, sono bloccati, perché? Sì. Perché c'era scritto pure, after the update. No, no, sono bloccati perché non ci siamo arrivati, semplicemente. Sì, sì, però ieri, dico, nella patch, nel video che non vedranno mai, io ero impazzito a cercare di capire che volesse dire after the update, tra parentesi, semplicemente che, appunto, saranno ad interim, cioè non è un evento che all'inizio è una fine, ad interim. Occhio che l'ultimo e il terzo ultimo, quindi il primo e il terzo di quelli nuovi, danno più due speed in tutte le modalità, quindi spingete la vostra legione a lavorarci un pochino sopra. Fate la prima donazione con dieci diamanti, insomma. Allora, per chi se lo chiede, sta impanicato da ieri, che questo errore di merda è la Conquest bloccata, mi hanno detto. Sì. Ci rimarrà così per un mese, quindi, deduco. Un po' meno, però, sì. Che bello. Poi, cos'altro ci dà questa bellissima patch? Ci dà il flip skin, con la skin di Atena, che per fortuna già ho, quindi farò il try free a caso. E lo proverai e ti darà dieci diamanti. Madonna che rosi, che è l'unica volta in cui non devo beccare la skin. Allora, la skin secondo me è qua. Quindi vado a posto. Ma tanto tempo tempo. Nel suo domain. Perfetto. Poi abbiamo lo star guide, che è quello di Will of Star, il rebate, chiamiamolo così. Poi abbiamo lo star blessing, che è come ogni Will of Star. Allora, qui sono molto worth. Allora, quello dipende, se vi servono sì. Sono molto worth le altre due, cioè gli orologini e le pietre viola. Quelle le ho manetta, quindi non mi servo. Però è quello lo sconto massimo, perché vi costano dieci diamanti l'uno, invece in tutte le altre cose costa di più. Ok. Poi abbiamo lo star blessing, che è sempre un rebate di là. l'icaone, che ve l'abbiamo già detto, e poi special sale, che ieri invece nella pace era scritto super mega evento. Era questo. Ma che cosa sta dicendo? Sì, group spending benefit dello sblinda bellissimo super evento. Non c'è nemmeno che il secondo pacco è per due e solo per uno extra. Quindi meraviglioso proprio. Mannamia, che inutile. Eh sì. Poi vabbè, abbiamo il solito scambio. Io vado a prendermi il mio solito tomo. Grazie. E poi niente. Io consiglio molto, perché si deve recuperare i senti vecchi, il volume a 25 gem. E le polvo scambio di polveri d'oro, chiaramente. E poi abbiamo sempre la solita solfa. Cosa poi c'era nel Q&A? Vado a riprenderlo, perché non me lo ricordo. Ah, non c'era niente. Sì. Ah, aspetta. Nel Q&A c'era, apri le daily, file achievement. Ah, è vero. No, no, qui. Sì, sì, quello di Pandora. L'ho chiesto. Non l'ho fatto, però, eh. L'ho chiesto quello di Pandora. E... Ah, l'hai già preso? No, non l'ho fatto io con il libro di Pandora. Comunque, l'hanno messo, comunque. Potete riclamare il vostro qualcosa. Come si dovrebbe vedere? Game Mode, forse. Game Mode, Saint Legend. Ah, Saint Legend, ecco. Eh, vedi. Vi dà... Lo volevate, vi dà quelle cinque chiavi e quel ticket dell'Astral, che è fondamentale. Era worth una domanda e una risposta, ma va bene. Che adesso vi sto per far vedere. Comunque, in ogni caso, per una volta il gioco è andato up velocemente. Non ho sentito di crash di PvP. Non ho sentito di morti. Ah, ci sono due grosse novità, poi, del Codex, si vedono. Sì, sì. Quelle le andiamo a trattare adesso, perché saranno poi i protagonisti di settimana prossima, che praticamente durerà tutta la settimana. Perché la seconda domanda, però, è quella su Black Friday. Rispiegala, perché effettivamente... Allora, qui chiedono, ma le regole dell'evento della slot del Black Friday non era chiare? I tempi non erano chiari? Allora, i tempi degli eventi li hanno sempre messi nell'ora di Hong Kong. che effettivamente, senza un'indicazione di nessuna fascia di fuso orario, effettivamente non era chiarissimo. Ho detto, sì, ora le metteremo anche in cose più chiare a voi occidentali. Giustamente, anche perché c'era stata gente che aveva fatto cose un po' strane, tipo, mi tengo tutte le pool per mandarle in streaming, ne ho tipo 80, ma l'evento è già finito, non le posso spendere. Cos'è questa scammata? Comunque, qui sono stati molto carini, visto che era un evento web, solo da sito internet, hanno detto, sì, sì, sistemiamo noi, senza problemi. L'hanno allungato, non si potevano reclamare altri giornaliere in più, però si poteva fare tutto il resto, quindi si poteva spendere le roll, diciamo. Sono stati carucci, visto che non dovevano prendere Tencent a Traino, ma potevano fare da soli, in modo più o meno sbrigativo. Per concludere questo video, andiamo a vedere le due novità di oggi. La prima, quella forse più importante, perché ci hanno detto qual è il banner di Natale. E vai! E vabbè, insomma. Siete felici? Io per niente. Ovviamente il suo showcase... Come sexy! Mamma mia, che disegno brutto, mamma mia! Allora, non so se leggete anche la descrizione in inglese, che vuol dire, in parte cavallo, in parte uomo, miglior destriero di se stesso. L'ultima parte l'ho inventata io con la citazione, però più o meno dice la stessa cosa. Comunque, arciere leggendario, va bene. Insomma, è un personaggio che andremo a scoprire lunedì, nel video dedicato a lui, ovviamente, nel sacred. Quindi lo andremo a provare, vediamo com'è, i link sono pure buoni. Vedo interessanti i link, comunque. Sì, sì, sono buoni. Vorrei sapere in quale mondo si sposerà con Aeros e Goldenarro. Immagino l'eredità del Sagittario, perché altrimenti non si spiega. Sì, perché se Goldenarro, insomma, non so neanche chi è. Poi vabbè, con Odisseo non ha storia in comune, di conseguenza ci sta. Come no? Ce l'ho detto, hanno una storia in comune. Ah, ok, ok. Poi l'ultima novità è il cosmo che hanno inserito, che sinceramente, penso, sarà una fonte di bug che la metabasterebbe. Io quando l'ho letto ho detto, perfetto, sto cosmo io non lo piglio nemmeno, manco ce provo. Perché? Prego, parla a lei l'onore di farci capire. Allora, quando il personaggio equipaggiato prende danno due volte nello stesso round, solo il 60% del danno verrà preso in quel round. Il rimanente 40% gli sarà allocato prima che agisca nel round successivo, prima della prossima azione. Allora, già non ho capito quello che ho letto, che è quello che ho tradotto. Quindi in gioco sarà ancora più bello, perché si creano situazioni in cui la gente non capirà minimamente cosa sta succedendo. Ma incluso il proprietario, incluso di l'attenzione, boh, è sanità mentale. Anche perché Dario ha fatto un appunto molto importante. Come interagisce sto robo con i barn, con i bleed? Le conta come istanze di danno, boh. E l'assista di Artemide conta come secondo attacco. Boh! Nessuno lo sa, ma non è che loro. Insomma, è cosmo particolare. E funzionerà, il danno lo darà per davvero, te ne darà di più, te ne darà di più. Allora, questo cosmo non toccatelo. Allora, una carta può essere molto forte su personaggi che hanno già una riduzione del danno, perché se sta roba si somma, per un round diventano semi-immortali. Potrebbe essere interessante, però da capire, da vedere, da testare. Per rompere ancora di più le palle per le interazioni. Ma secondo voi, se uno ha sto cosmo, viene attaccato, poi gli mettete lo scudo di surplice Shion, poi cosa succede? Ah, boh! Ah, vabbè, insomma, sarà divertente provarlo in live ogni intacco, dai. Comunque, vi faccio notare prima di cercare il video. Ma tu non lo prendi, quindi non lo possiamo provare. No, prima o poi me lo darà il gioco, non so, quando mi odia, mi odia. Vedete che c'è il jet light comunque come bracciale, quindi quello fa già capire tutto, insomma, la sua fede è lì. E noi ci vediamo questa sera, vi ricordo, contro, batta, quindi sfida derby, sfida derby in casa EU. EU, poi Gray è l'unico che non è del derby, però vabbè, fa niente, è l'unico proprietario dell'accanto, quindi è l'unico che conta dalla parte nostra, però su dettagli. Ci vediamo questa sera a vedere questa sfida. Ciao ragazzi! Ciao ciao! Ciao! Ciao!